bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video ma lo faccio sempre ho provato in qualche modo di prendere la macchina non era male se veniva passate a napoli signori ma ho trollato lei come sta facendo allora signori signori c'è un problema tecnico che secondo me non stiamo capendo allora uno di là allora figa sembra l'auto sembra la 4 l'auto del mattino danni da pistola andiamo a bussare giampiero è giusto è giusto è giusto è giusto è giusto la missa time box quanto è bello avere il padello dentro fortnite con quattro rampe ti amazzono assai da 230 metri forza dai quanto è bello avere il padello dentro fortnite con quattro rampe ti amazzono assai da 230 metri forza devo trovare un bel posto dove per scacciare indisturbato vado per scacciare indisturbato vado vado basta 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 si deve ragionare si deve ragionare adesso lei non esagere nel senso parca la troglia di quella signorina che conoscevano tutti come Valentina e di miseria faceva la formaggiaia ha detto axio ma stavo giocando andiamo su let's go figlia questa ti porta proprio su in cima ma questo si vabbè si vabbè ma what ma in acqua è OP scusate ho visto che ballavo visto che ballava però a lei e fest piace cioccolato? non so dipende la droga che usa lei e come deve prendere che festa è il mio buono cioccolato io direto vado a prendere da quelli che hanno un poco di campo no? intende campo? e dico che feste cioccolato buono, che feste cioccolato buono NINE! che feste cioccolato non buono! e adesso sei morto pure tu ciao imparate a tirare le clinger va pirluoni da uno per noi easy bravo chiuder bravo 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 me l'ha attaccata me l'ha attaccata 3 a 2 3 a 2 3 a 2 let's go tuca ha 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 what the fuck non ci credo l'ho killato con la clinger da qui l'ho attaccata ma lui era sopra il campanile LOL un momento il piccato che mi fa il singhiozzino per favore per favore eh stavo fai dando per favore ok uno l'ho mandato però pensa a questi che dicono guarda questo dov'è il suo compagno suuuu che è morto il tuo amico figlio di pu*****a prenditi il mio lutto vieni vieni qua su ca fichi pu*****a no dai non lo vogliono non lo vogliono dai chiudere ha rischiato tantissimo l'ho appena visto eh lei stava con due di vita a chiudere eh quanto fa freddo oggi a Milano le temperature sono austecca andate giù in picchiata con prepotenza ci sono fuori stavo guardando prima per andare a fare colazione apro la finestra e ci sono due pinguini che stanno buttando fuori la pattumiera e li guardo li faccio uè guarda che qua non è mica il polo norte eh mi hanno detto mi hanno guardato così e se ne sono andati tutti storti figa non so e intanto farma ce la faccio 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 37 dentro ce la e stai fermo 2v1 cao e 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 a e e e e e e e e e Buon Natura Castel. Secondo mese. Chaccio saluta il mio amico Simon. Sono Luca! Mua! Mua! Ti piace? Mua! Che tal che c'è? Mua! Solo salire si capace! Mua! Mua! Ti piace? Mua! Mua!